Dato che gli altri video a tema Seven Deadly Sins vi sono piaciuti ho deciso di farne un altro e in questo vi dirò in una maniera alquanto semplificata quali sono i poteri degli arcangeli che si chiamano grazie e vi dirò anche come funzionano e non solo. Dato che sono solo 4 inserirò altri personaggi che fanno parte sempre del mondo creato da Nakaba Suzuki, quindi direi di non perdere altro tempo e di iniziare subito ma non prima però di aver messo un bellissimo like per supportare il video ed iscriviti se non l'hai già fatto, ti ringrazio. Le grazie sono state donate ai 4 guerrieri più potenti del clan delle dee, questi poteri sono stati creati dalla dea suprema e servono per poter contrastare il clan dei demoni e i 10 comandamenti, infatti ogni arcangelo è forte quanto 2 comandamenti, proprio perché una grazia non dona solo un potere magico ma aumenta anche la potenza complessiva del possessore. Iniziamo a parlare del più scarso dei 4 arcangeli che sarebbe poi Sariel, egli possiede la grazia denominata Tornado e dal nome potete già immaginare cosa possa fare. Questo potere divino permette all'arcangelo di controllare il vento, diciamo che questa magia sarebbe una versione potenziata di quella che possiede Hauser. A parte ciò, la grazia di Sariel gli permette di essere sia forte in difesa e sia forte in attacco, inoltre sembrerebbe che se colpisse qualcuno col Tornado, quest'ultimo non potrebbe più rigenerarsi, anche se ci sono state delle eccezioni. Comunque Sian non è niente male come potere. Tarmiel, l'altro arcangelo, quello con tre teste, possiede la grazia chiamata Ocean, cioè Oceano, ed anche qui si capisce immediatamente che tipo di magia si tratti, ma non è semplice acqua. Infatti l'arcangelo può creare dei veri e propri oceani e dopo che i nemici sono stati colpiti dalla grazia di Tarmiel, si ritrovano in un luogo a parte che non è il mondo reale. Diciamo che questo luogo è stato creato dalla grazia stessa e chi non ha un potere magico uguale o superiore agli arcangeli rimarrà bloccato in quel luogo acquatico. Ma non è tutto, Tarmiel può anche diventare acqua e quindi diventare inconsistente per riuscire così a rendere inefficaci gli attacchi fisici dei nemici. Naturalmente può usare l'acqua anche nel mondo reale come se fosse una magia elementale. Ludo Shin secondo me possiede un potere veramente figo, esso si chiama Flash. Eh sì, anche qui non è così difficile da capire che tipo di potere si tratti. Diciamo che ha proprio il nome di un supereroe DC che possiede il potere di correre super veloce. Ed infatti è questa la grazia del leader dei quattro arcangeli. Quest'ultimo grazie a Flash può muoversi ad altissima velocità, che sembra quasi che si stia teletrasportando. Infatti riesce a colpire gli avversari come se niente fosse. E come avrete notato, questo potere divino è l'unico che sembrerebbe non attingere ai quattro elementi. Ma secondo me ci sta alla grande, purtroppo non c'è molto da dire, tranne che è una grazia veramente bella. L'angelo della morte, che sarebbe poi Mael, possiede la grazia chiamata Sunshine. Conosciamo a memoria questo incredibile potere, dato che l'ha posseduto fino alla morte il grande Escanor. Quindi l'arcangelo può fare le stesse cose che faceva il Lion Sins. Ma nonostante ciò, Mael non cambiava il suo fisico, né tanto meno la sua personalità. E riusciva comunque ad usare perfettamente Sunshine anche nelle ore dopo mezzogiorno. Sicuramente questo è dato dal fatto che la grazia è stata creata per gli arcangeli e no per gli umani. Per questo motivo Mael è molto più affine a questo potere rispetto ad Escanor. Ovviamente Sunshine rimane, rimarrà uno dei poteri più fighi di tutti i manga, o almeno di quelli che io ho letto. E ora che ho finito di parlare delle grazie dei quattro arcangeli, vi dico cos'è il potere chiamato Ark. Esso è un potere magico che possiedono solo coloro che fanno parte del clan delle Dee. Ed ovviamente questo vale anche per i loro discendenti. L'arc in parole povere sarebbe il potere della luce, che può essere usato in svariati modi. Quindi lo possono usare per attaccare, creando appunto raggi di energia, o lame fatte di luce, oppure possono creare addirittura delle gigantesche esplosioni luminose e tanto altro. Ma può essere anche usato per difendere, infatti con Ark possono creare delle barriere fatte di luce, o golem, o altro. Questo potere magico è super efficace contro il clan dei demoni e i vampiri. Diciamo che rinchiudono il nemico in una specie di prigione luminosa, ed estraggono l'energia magica dall'avversario, fino a prosciugarlo, e alla fine distruggeranno il corpo. Naturalmente i quattro arcangeli possono usare Ark in un modo più in grande rispetto agli altri membri o discendenti del clan delle Dee. Finito qui è ora di parlare dei poteri magici di alcuni personaggi. Dreyfus possiede la magia chiamata Brick, che funziona in un modo alquanto interessante. Infatti essa si manifesta mediante la volontà del Cavaliere Sacro. Cioè, lui più ha una volontà incrollabile e più sarà potente. Brick poi permette a Dreyfus di creare esplosioni energetiche, ridifendersi al meglio da alcune magie e dagli attacchi ravvicinati. Infatti lo stesso Dreyfus afferma che è praticamente invulnerabile agli attacchi corrosivi. Però tutto ciò funzionerà solo se la volontà del Cavaliere non vacilla. Hendrickson possiede il potere magico denominato Acid, ed anche con questa magia il nome dice tutto. Infatti Hendrickson può corrodere i propri nemici con il suo acido. E se per caso un avversario entra in contatto con questo acido, tipo ferita, quest'ultimo piano piano marcirà, arrivando fino alla morte. A livello di spiegazione è alquanto semplice, non c'è bisogno di dire chissà cosa, alla fine è acido. Neil Thunder possiede la magia chiamata Thunderbolt, ed egli è super bravo ad usare tale potere. Infatti grazie ad esso può aumentare le proprie capacità fisiche, diventando estremamente veloce. Può anche dare delle forme ai fulmini che evoca, e non solo. Può anche impregnare la sua spada con la sua magia, reddendo di fatti il suo potere ancora più potente di prima. Diciamo che è un vero genio del combattimento e sta a usare molto bene Thunderbolt. Dato che può anche cambiare il tempo atmosferico e creare quindi delle gigantesche tempeste. Apro una piccola parentesi su suo padre, ossia Zanathras. Egli possedeva il potere magico chiamato Great Thunder, che sarebbe una versione potenziata della magia del figlio. Grimor possiede il potere magico chiamato Wall. Esso gli consente di creare barriere che non possono essere distrutte dalle semplici magie o dagli attacchi fisici. Il cavaliere può anche espandere tale barriera ed essa si espanderà in tutte le direzioni, così facendo respingerà il nemico senza toccarlo effettivamente. Può anche creare barriera attorno ad altre persone, e questo è utile sia per difendere le persone e sia per rinchiudere i nemici. Diciamo che ricorda vagamente il frutto del diavolo di Bartolomeo. Che dire? Penso di aver parlato abbastanza, ovviamente non sono andata ad approfondire troppo ogni magia, perché se no avremmo fatto notte, e così facendo è molto più semplice da ricordare. Inoltre, come ai prossimi video, vorrei parlare dei poteri del re dei demoni, della dea suprema e del caos. Fatemi sapere se vi piace l'idea, e ditemi anche se il video sia stato di vostro gradimento, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per restare sempre aggiornati, e noi ci sentiamo, come sempre, in un prossimo video.